Da qui al giugno del 2016 40 categorie dovranno rinnovare il loro contratto nazionale, tra cui quella dei metalmeccanici. Daniele Calosi, il governo ha già detto se non riuscite sostanzialmente a metterci d'accordo ci pensiamo noi. Sarebbe la prima volta che non si passa attraverso il dialogo con le parti sociali. Sì, salta tutto un meccanismo che disciplina i sistemi di relazioni sindacali e sociali in questo paese dal dopoguerra, dal dopo il fascismo in poi. Vorrei ricordare che il contratto nazionale è un elemento di tutela per tutti i laboratori di tutte le categorie pubblici e privati. Dà delle certezze per i laboratori, un quadro di diritti e anche un quadro normativo, ma soprattutto dà la certezza salariale, che un laboratorio non si può pagare sotto i minimi contrattuali stabiliti dai contratti. Il salario minimo che propone il governo non vi convince? No, perché sarà più basso del salario previsto dai contratti nazionali. Vorrei ricordare che il contratto nazionale lega tutti i laboratori. Quello che ha in mente il governo dovrebbe essere quello di aumentare la contrattazione decentrata, e quindi la contrattazione collettiva azienda per azienda, il governo mente sapendo in mentire che noi abbiamo un tessuto economico nel nostro paese, costituito solo da una miriade di piccole e piccolissime imprese. E quei lavoratori in quell'azienda hanno solo e desclusivamente il contratto nazionale come forma salariale. Che cosa propone la FIOM? Noi proponiamo un rinnovo del contratto nazionale che sia sulla parte normativa su base triennale e sulla parte economica annuale, cioè andare a contrattare il salario anno per anno in funzione degli andamenti di settore e degli incrementi di produttività. Cioè lo stesso schema viene utilizzato in Germania. Cioè lo stesso schema viene utilizzato in Germania. Cioè lo stessoascal della FIOM?